Oggi è sabato, domani non si va a scuola, oggi è sabato, vita è nuova! Oggi è sabato, per me è un giorno speciale, oggi è sabato, meno male! Buongiorno! Buongiorno amici della Zaccola Dura, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Mamma mia come ha cambiato look questo guardiola, l'ho visto oggi sulla gazza, con gli occhialini, la tuta, qualcosa in bocca, come ha cambiato look questo guardiola! Pensa che ha talmente cambiato look, che lo chiamano Sarri, Sarri lo chiamano, pensa come ha cambiato look! Allora, 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 intanto vi ricordo come sempre in descrizione mettete un like e trovate il canale Telegram e tutto il resto Parliamo, parliamo, parliamo degli aggiornamenti, oggi per fortuna si gioca, partite, partite ma ne parliamo dopo Allora, per qua voglio chiarire subito una roba, siccome lo Juventino, lo Juventino non contento di essere padrone indiscusso del campionato italiano da tempo immemore Sono otto anni che vincono, dominano, prendono tutti a schiaffi, ma non sono contenti lo stesso No, loro devono comunque essere permalosi, ti devono proprio dire fate cagare e ci hanno anche ragione Se la prendono, perché ieri io ho detto che non arrivava guardiola, se arriva fai una figuraccia Allora, chiariamo subito un punto chiarissimo Non è che lo dico io perché ci sono fonti mie o cose di questo tipo Io ti dico quello che riportano i giornalisti italiani Ti ho detto ieri, non ti ho detto che è una notizia mia Ti ho detto, guarda che se tutti i giornali italiani dicono che non arriva, lo deridono, probabilmente non arriva Questo ho detto io, quindi chiariamo Se arriva, la figuraccia la fanno loro, no? Che la faccio io, che c'entro io Già ho fatto le mie e mi bastano, e mi bastano Detto questo, come vedete, oggi quasi tutti parlano di Sarri In più, da milanista, da milanista, siccome non siete i nostri avversari Perché siete anni luce di distanza, non siamo competitor per l'anno prossimo, no? Per me è pure meglio se prendete guardiola A me non mi cambia proprio niente, zero Anzi, forse è meglio così rimane libero Sarri E invece vi prenderete Sarri E quindi a noi cosa ci rimane? Quindi ragazzi, sono molto arrabbiato Primo perché sento parlare di questo giardino che stava retrocedendo col Monaco Eh, ma è stato esonerato E poi è tornato e si sono salvati Sì, ma ieri ha perso Ha perso! Con Nizza È stato fortunato che il Can ha perso pure loro Che anche a Baia non morde Che hanno perso anche loro Se no retrocedeva Cioè io devo andare a prendere un allenatore Che stava retrocedendo Ditemelo voi Ditemi voi Comunque meno male sono voce T'altro oggi Poi dite che non c'è mai fino al peggio Apro la gazza Cosa c'è scritto? Anche Maldini a rischio Mandano via anche lui Via anche Paolo Via Cuore di Drago Cioè ma vi rendete conto che per i giornali Noi siamo proprio Ma non a pezzi Di più Poi ci credo che la gente Nella sua testa Ma vogliamo fare qualcosa? Ma piuttosto fai un giornale del Milan Almeno scrivi le notizie vere Vogliamo svegliarci in società E fare un minimo di comunicazione O no? Non siamo delle aziende Il Milan è una squadra di calcio C'ha milioni di tifosi Che vogliono Sapere Vogliono Non sapere Adesso mi dicono Che da lunedì Dovremmo iniziare a sapere qualcosa Io da lunedì Comincio la contestazione Forse non avete capito Da lunedì Io adesso sto aspettando Che c'è la spalla Da lunedì Comincio la contestazione Che dovete venire fuori per forza Tutti quelli che mi amano Mi seguono In questa contestazione Che mi sono rotto le scatole Avrò almeno il diritto Di sapere Di che morte devo morire? E non lo so Ci prendono a schiaffi tutti i giorni Potrò almeno sapere Di che morte devo morire Tra l'altro Conte Non l'avete Che poi non mi dovete Venire a dire Quegli altri che mi dicono Eh Piuttosto che prendere di Francesco Allora mi tengo No piuttosto niente Perché tu dovevi Prenderlo prima L'allenatore Un Gasperini Un Sarri Un Conte Se tu lo prendi prima Non ti ritrovi alla fine Che non hai più nessuno Da prendere Perché l'hai preso prima Quindi no Piuttosto che Piuttosto un paio di ciufoli Un paio di pardeciufoli Come si dice Un pardeciufoli Quindi Non mi fate arrabbiare pure di sabato mattina Stiamo sereni Volevo dare un altro indizio Simone Inzaghi Ancora ha fatto la riunione Con lo Tito Non ha rinnovato Ha cancellato la conferenza stampa Anche di oggi Di oggi Quindi Simone Inzaghi Sicuro va via dalla Lazio E andrà In una squadra italiana Perché chi lo pia Simone Inzaghi In una squadra italiana Le due accreditate Sono Miran e Juve Che per la Juve Sarebbe Un fallimento Nella testa di Juventini Secondo me no Perché comunque Simone Inzaghi Fa un calcio propositivo Volevano un allenatore Con un calcio propositivo Guardiola non si può prendere Klopp non lo puoi prendere Anche se ha la clausola recissoria Non se ne va da Liverpool Chi prendi? Secondo me Vedrai che alla fine no 14 giugno Presentazione dell'allenatore Non lo sa nessuno Chi è Guardiola non si può prendere Klopp non si può prendere Sarri decide di rimanere a Londra Tra l'altro ha fatto Un messaggio lì Che rimane In realtà si può liberare Va bene Arriva Il 14 Si apre Chi è l'allenatore E arriva l'immenso L'immenso Max Con il sorriso Rimango io Era tutto uno scherzo Rimango io Rimango Che sarebbe la cosa migliore Io non lo so Perché l'avete mandato via Voi l'avete mandato via Nella speranza di prendere Guardiola Ma non si può prendere Guardiola Non te lo dà il City Non te lo dà Cioè c'è ancora il contratto Il City deve dare l'ok Oltre che Guardiola deve accettare Il City deve dare l'ok E in più gli devi dare una fraccata di soldi Quindi Poi magari lo prendono Non voglio dire niente Però Evidentemente Era meglio tenere Allegri Vedrai che tra un po' Quando Guardiola è sicuro no Inizio già a sentire Qualche Juventino Che dice Allora per prendere Simone Inzaghi Mi tenevo Allegri Adesso vediamo No molto probabile Non mi interessa Molto probabile Sarri a questo punto I giornali dicono così E comunque Sarri è quello che volevate Un calcio diverso Un calcio propositivo Di un certo tipo Sappiate Sappiate Che ha bisogno di un po' di tempo Sarri E' vero che Con la squadra che avete Non è che c'è bisogno di tempo Tanto Perché poi vincere aiuta a vincere Quindi vinci le prime due o tre Poi Si va lisci Però Vediamo Vediamo cosa succede Di conseguenza Se loro prendono Sarri E noi ci tocca Simone Inzaghi E tanti mi hanno chiesto Cosa ne pensi Simone Inzaghi Penso che Non mi dispiace Simone Inzaghi Cioè non è di Francesco Con imbecille Però ragazzi Non abbiamo un progetto di niente Cioè Se prendevi Se prendevi un Gasperini Potevo capire la politica Dei giovani Da far crescere In un calcio Blah 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 Se prendevi Sarri Avevi un progetto Per poter vincere Nei prossimi tre anni Che era il migliore Da dover prendere dopo Conte Se prendevi Conte Voleva dire che Eri pronto a Tornare A fare qualcosa Quindi non sono contento Se prendiamo Simone Inzaghi Per niente Però Non sono neanche Arrabbiato Come se dovesse arrivare Un Di Francesco In un giardin Per dire Cioè Tutta la vita Simone Inzaghi È un po' un piangine Però quello Sicuramente fa un calcio Migliore Cento volte Di quello che fa Gattuso Ancora oggi Leggo Tassotti Che No dovete tenere Gattuso Oh la dovete smettere Cioè l'unica campagna Mediatica Che ha il Milan È di tenere Gattuso Non lo vuole nessuno Gattuso Non lo vuole nessuno Nessuno O meglio Come allenatore Poi Se viene con me A vedere le partite Siamo amici Andiamo a berci una birra Volentieri Però Ci serve un allenatore Ok Ci serviva Altro Tra l'altro Che voi non state prendendo Vabbè Di conseguenza Oggi Ci andiamo a vedere L'addio di Pellissier Che segnerà 100% Nella sua partita D'addio Poi col Frosinone Poi ce l'ho contro A fantacalcio Quindi segna Sicuro Se avete da scommettere Andatevi a scommettere Il gol di Pellissier 100% sicuro E poi c'è un inutile Napoli-Bologna Abbastanza inutile Faranno festa Non lo so Faranno una scampagnata Di fine stagione E domani E domani Finalmente Ultima partita Di campionato Almeno si vede Un po' di calcio Tra l'altro Domani Farò un torneo Quattro squadre Al TCB In Barona Chi vuole venire Di Milano Sarò al TCB Dalle 15.30 Alle 19.30 Poi ovviamente Vado a vedere le partite Dove sarò Con la maniera del Milan Perché abbiamo Quattro squadre E noi saremo Ovviamente Il Milan Il Milan Il Milan Ma farò qualche video Speciale Nel canale Telegram Per chi lo vuole seguire Quindi ragazzi Vi saluti Ci vediamo come sempre Alla prossima Mettete un like Condividete E Gattuso out Gattuso out Gattuso Out